Ciao ragazze, oggi volevo parlarvi di un prodotto anticellulite che sto usando ormai da quasi un mese e incredibilmente riesco a essere abbastanza costante, che per me è veramente una cosa stranissima Allora, il prodotto di cui vi voglio parlare è questo qua, della Collistar, nella confezione c'era in omaggio il siero notturno quindi la confezione era questa maxitalia di questo siero intensivo anticellulite con le cellule staminali vegetali e effetto ultrasuoni La confezione è da 200 ml e dura 12 mesi, dura tantissimo perché è un mese che ce l'ho e la confezione è ancora parecchio piena direi che secondo me è anche più di metà Come va applicato? Niente, è semplicissimo, io applico una pompettata al mattino, una per ogni gamba, quindi due stendendolo velocemente dal basso verso l'alto, ma non c'è bisogno di massaggiarlo che è la cosa che a me pesa di più, un po' perché sono pigra, un po' perché non ho mai tempo, soprattutto al mattino non ho mai tempo quindi avevo assolutamente bisogno di un prodotto che asciugasse in tempo zero questo è un prodotto che asciuga veramente in pochissimi istanti lo stavo guardando, lo segnalo nel brazzo di fronte sul balcone questo qui dice si consiglia di iniziare con due applicazioni al giorno e proseguire poi con applicazioni quotidiane io in realtà lo applico solo al mattino questo perché poi la sera prima di andare a dormire siccome c'era nella confezione in omaggio questo qui che è il siero notturno, usavo questo e questo si asciuga dicevo in un attimo, non va sciacquato quindi lo mettete e potete vestirvi dopo pochissimi secondi e poi la sera invece metto questo, la confezione di plastica e mi piace un sacchissimo mi piace un sacco perché ha la pipetta così praticamente io prendo una pipettata, una per ogni gamba quindi è in circa tanto prodotto così quello che viene però non è che sto lì a controllare e stendo il prodotto questo massaggiandolo leggermente ma anche questo asciuga in non so 15 secondi direi quindi non è che avete da massaggiare tutto sto tempo ed è subito asciutto quindi vi potete mettere il pigiama poi va lasciato agire tutta la notte e è sciacquato la mattina la confezione questa qui è da 75 ml in un mese l'ho usato ora 30 giorni tutte le sere no perché sicuramente tipo sabato scorso che siamo rientrati a luna sono certa di non averlo messo o ieri sera che avevo un po' di febbre e non l'ho messo però diciamo che sui 30 giorni 25 volte l'ho usato per questo sono molto soddisfatta di me che è una cosa un po' fuori dal comune e devo dire che i risultati si vedono si vedono dopo quanto? secondo me si vedono dopo due settimane si cominciano a vedere dopo due settimane dopo un mese assolutamente li vedete il prodotto è tanto per cui mi permette di poterlo usare direi secondo me tutta l'estate dura tranquillamente perché siamo a maggio giugno, luglio direi sì metà agosto dura e quindi un buon investimento perché il prezzo non è basso 36 euro 36 euro però avete due prodotti di un'ottima marca perché la Collista è davvero un'ottima marca e secondo me 36 euro è un mese che lo uso quindi maggio, giugno, luglio e agosto per quattro mesi sono 8,50 euro al mese ci sta secondo me ci sta stavo facendo i conti la calcolatrice aiuto no, comunque sì secondo me dicendo sì costano tanti i prodotti della Collista però se la durata è questa non è in realtà tanto perché se io devo comprare una volta al mese i sali del mar morto o i fanghi che costano 12 euro tanto vale che compro due prodotti in uno e ho bello che risparmiato insomma poi li trovate per esempio da Sephora da Sephora è facile avere gli sconti perché bene o male una volta al mese arrivano le cartine con potete comprare tot avete il 10% di sconto e quindi risparmiate anche un pochino io infatti l'avevo preso con il 10% di sconto mi pare insomma comunque sia davvero consigliato un valido prodotto e se avete se avete da suggerirmene altri ditemelo un bacione a tutti ciao ragazze